buonasera e benvenuti a questo nuovo video del contenitore di notizie inutili prima di affrontare l'argomento della serata vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube a mettere un like o a lasciare un commento se ne avete voglia stasera parleremo di un argomento che fa vibrare le corde del cuore dei bambini grandi come me perché il 4 aprile 1978 fu un giorno che rivoluzionò la televisione italiana credetemi più di quanto avessero previsto gli stessi dirigenti rai infatti andò in onda il primo episodio della serie di atlas ufo robot nonostante sia stato l'apripista che ha consentito ai robottoni giapponesi di invadere l'italia godre che è il terzo della cosiddetta mazin saga di gonagai nel 1975 gonagai uno dei più importanti fumettisti e scrittori giapponesi collaborò alla realizzazione di ufo robot gattiger la grande battaglia dei dischi volanti un film di circa 30 minuti che venne distribuito nelle sale cinematografiche giapponesi e che servì da base per lo sviluppo della serie televisiva difatti in questo cortometraggio ci sono le idee che poi verranno sviluppate successivamente un robot completamente diverso chiamato roboizer le ambientazioni country western la musica e il personaggio di duke fleet ufo robot gattiger è infatti l'ultimo della trilogia dei robottoni creata dal maestro gonagai che in italia è giunta in ordine inverso rispetto all'originale cronologia giapponese difatti la serie di mazinga z venne prodotta nel 1972 il grande mazinga nel 1974 e per ultimo goldrake nel 1975 di fatti nel nostro paese e godrake è una leggenda mentre in giappone è esattamente il contrario dove mazinga z ad aver conosciuto il successo maggiore mentre godrake è il meno popolare dei tre per invogliare il pubblico delle due precedenti serie a seguire anche questo terzo capitolo venne inserito come anello di congiunzione della saga il personaggio di koji kabuto il pilota di mazinga z in atlas suo robot lo vediamo alla guida del disco volante da lui stesso costruito e successivamente del godrec 2 nelle edizioni italiane la continuità fra i tre capitoli si è completamente perduta anche per lo stravolgimento dei nomi originali che impedisce di notare la costante presenza del personaggio di koji kabuto il cui nome rimane tale nell'adattamento del grande mazinga ma che diventa rio in mazinga z ed alcor in goldrake alle ore 18 e 45 del 4 aprile del 1978 su rai 2 veniva trasmessa per la prima volta una puntata di goldrake preceduta da una spiegazione di maria giovanna elmi che cercava di contestualizzare il cartone animato se non l'avete capito l'ufo robot sono cartoni animati giapponesi certo che l'avete capito comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco a proposito di contestualizzazioni vediamo cosa accadeva in italia nel 1978 a ridosso della messa in onda del fatidico primo episodio il 16 marzo del 1978 il sequestro moro l'agguato sanguinario la tormentata prigionia e la condanna a morte in 55 giorni i più lunghi della storia della repubblica italiana e il tramonto di un progetto politico che forse avrebbe potuto riscrivere un futuro diverso per il nostro paese il 6 maggio le br comunicarono l'esecuzione e la condanna a morte tre giorni dopo il corpo di moro fu rinvenuto in via caetani nel bagagliaio di una renault 4 rossa parcheggiata simbolicamente tra via delle botteghe oscure e piazza del gesù dove avevano sede rispettivamente il partito comunista italiano e la democrazia cristiana il 9 maggio la mafia uccide giuseppe impastato meglio noto come peppino un giornalista attivista membro di democrazia proletaria e noto per le sue denunce contro la mafia siciliana a seguito delle quali fu assassinato il 9 maggio del 1978 il 26 agosto del 1978 avviene invece l'elezione di giovanni paolo primo un papa in anticipo sui tempi di almeno 35 anni la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso le riforme annunciate da papa luciani non poterono vedere la luce dopo appena 33 giorni di pontificato morì stroncato da un infarto successivamente un'inchiesta fece emergere gravi sospetti sulle reali cause della morte che tuttavia rimangono tuttora non dimostrate l'otto luglio sandro pertini venne eletto poi presidente della repubblica mentre il 16 ottobre carol voitila fu eletto papa con il nome di giovanni paolo secondo goldrake era il primo robot giapponese a fare la sua comparsa nella televisione italiana fu preceduto solo da kimba haidi e barba papà e sì anche quello era un cartone animato giapponese e si abbatté come uno tsunami sulla tv con passata rarcolettica dell'epoca fino a quel momento i cartoni animati erano pensati soprattutto per un pubblico di bambini generalmente un cartone animato narrava storie allegre con disegni colorati e l'immancabile lieto fine goldrake invece ci mostrava un personaggio addormentato che combatteva nemici che arrivavano dallo spazio era un cartone con moltissimi livelli di lettura la prova che si poteva fare intrattenimento di passione senza per questo rinunciare a qualcosa che potesse piacere a più fasce di pubblico si può dire che proprio grazie a queste trasmissioni la tv privata iniziò a prosperare offrendo con adattamenti spesso drammatici una mole di contenuti che fino a quel momento c'era completamente sconosciuta nella versione giapponese della serie i personaggi mentre usavano le armi spingevano soltanto dei pulsanti o tiravano delle leve cosa che causò dei tempi morti durante il doppiaggio italiano con imbarazzanti silenzi fu così che romano malaspina mitico attore doppiatore di actarus inventò i termini come alla barda spaziale maglio perforante raggi laser e lame rotanti uforobò goldrake arriva in italia sì dal giappone ma passando prima dalla francia nazione dalla quale fu importato dalla rai i funzionari della tv di stato quando ricevettero il materiale su questa serie animata dai colleghi d'oltre arpe sul plico l'estero la parola atlas ovvero atlante titano della mitologia greca ma che in francese significava compendio o guida informativa e ciò l'indusse nell'errore di credere che facesse parte del titolo intendendo quell'atlas uforobò guida a uforobò come il nome completo dell'opera ecco perché in italia è diventato popolare con quel nome dopo l'arrivo in italia di goldrake o grand easter come veniva chiamato originariamente in giappone il bel paese divenne il maggiore acquirente occidentale dei cartoni animati giapponesi grazie al successo di atlas uforobò gli indici d'ascolto della rai salivano alle stelle quando goldrake compariva sugli schermi l'immagine di goldrake finì su centinaia di prodotti diversi dai fumetti e libri dischi le maschere di carnevale persino e dopo sci ma mentre i bambini e ragazzini erano entusiasti molti genitori si mostrano ostili e respirizzano con forza la novità proveniente dal giappone dopo la prima messa in onda di goldrake non si fecero attendere le feroci critiche e la polemica si sparse a macchia d'olio goldrake e i cartoni animati giapponesi furono accusati di influenzare negativamente le menti dei giovani spettatori ed ispirare violenza una sorta di caccia alle streghe sorretta anche da leggende metropolitane che vedevano bambini pronti a lanciarsi dalla finestra per emulare il loro eroe actarus anche due dei più grandi intellettuali italiani come dario fo e alberto bevi l'acqua espresso il loro dissenso il primo un po a sorpresa dichiarò goldrake l'angelo sterminatore il vendicatore che si sacrifica per il povero uomo della strada in fondo c'è dietro la stessa idea del terrorismo alberto bevi l'acqua invece fu molto meno diplomatico disse il killer si più che robot il pugno rotante equivale al pugno di ferro dalla barda spaziale alla baionetta il maglio perfonante al malganello di goldrake è lo stadio che può precedere la droga vera e propria tutto questo clamore era in parte legato al fatto che ci si confrontava con qualcosa di nuovo completamente diverso e quindi non identificabile con la tradizione e il modus vivendi dell'epoca quindi andava rigettato come spesso accade un esercito dei genitori preoccupati ben pensanti educatori e giornalisti e politici iniziarono un bombardamento mediatico che culminò con un'interrogazione parlamentare che puntava alla chiusura della trasmissione seguì poi la crociata di imola in cui 600 genitori della città emiliana inscenare una protesta con tanto di raccolta di firme che finì sui principali giornali e pensate un po tutto ciò accadeva mentre peppino impastato giovanni paolo primo e aldo moro passavano miglior vita ma i dirigenti rai e delle tv private furono lungimiranti e tenero duro sostenuti da indici di ascolto mai visti in precedenza gli effetti di goldrake dei suoi successori in italia li vediamo ancora oggi difatti non esiste quarantenne che non conosca i circuiti di mille valvole o l'insalata di matematica o che non conosca la barra spaziale e che non sia in qualche modo legato ai cartoni animati giapponesi goldrake fu uno dei primi cartoni animati giapponesi a sdoganare il merchandising a 360 gradi che ancora oggi alimenta i mercatini di appassionati e ricerche nelle proprie camerette di gioventù bene anche stasera siamo giunti al termine di questo video prima di andar via vi invito a iscrivervi al mio canale a mettere un like o a lasciare un commento e ci vediamo la settimana prossima